Altri sei mesi di proroga delle indagini sulla gestione della pandemia in Molise. La nuova richiesta avanzata dal procuratore di Campobasso è notificata al Comitato Dignità e Verità per le Vittime Covid-19, come comunicato dallo stesso. È passato un anno dall'inizio delle indagini e la procura, reso noto il presidente del Comitato Francesco Mancini, ha chiesto la nuova proroga oltre il termine di durata, perché, secondo il procuratore, per chiudere è necessario attendere l'esito delle indagini delegate e le relazioni dei periti, diverse le denunce che hanno portato all'inchiesta su fatti del 2020 e 2021. Mancini ha ricordato che il 18 marzo una rappresentanza del Comitato ha incontrato il procuratore Nicola D'Angelo esprimendo rammarico per il tempo trascorso e ha continuato sempre Mancini per il fatto che siano stati nominati come consulenti medici che lavorano e hanno lavorato all'ospedale San Pio di Benevento, dove ha detto ancora ha prestato servizio l'apice dell'ASREM, oggi sotto la lente della procura. Il Comitato, nella nota diffusa, si chiede se la procura abbia ascoltato chi è stato indicato come persona informata su fatti, oggetto di denunce specifiche e formali, se abbia nominato un ingegnere biomedico esperto di impianti di ossigenoterapia, visto, ha spiegato sempre Mancini, che l'ingegnere responsabile tecnico dell'ASREM ha già dichiarato formalmente che quello al Cardarelli, ospedale Covid, è inefficiente e insufficiente, sia per i posti letto precedenti la pandemia, sia per quelli occupati durante. Il Comitato si è opposto alla richiesta del procuratore di archiviazione per la denuncia sui posti letto di terapia intensiva e non solo, e ha invitato la procura a riguardare i video già legati in cui i ricoverati lamentavano la scarsità di ossigeno dicendo che stavano morendo. Ora, ha concluso il Comitato per bocca del presidente Francesco Mancini, attendiamo la risposta della procura consapevoli che ci difenderemo di fronte a qualsiasi decisione per verità documentali e da accertare. Vogliamo che si accerti la verità e sia fatta giustizia per coloro che sono morti, soli, per evidenti responsabilità. Il contenuto della nota è stato condiviso anche dall'avvocato Vincenzo Iacovino. Grazie a tutti.